e che non hanno alcuna base scientifica. Non vaccino mia figlia, non vaccino mia figlia perché il vaccino non è una religione, è una medicina. Quando io prendo una medicina, scusi, se mi fa ragionare, lei non mi deve mettere in bocca cose che non sto dicendo. Io le faccio domande. Allora, io credo che quando tu prendi una medicina valuti un rapporto rischio-beneficio. Ok? Io non mi faccio la puntura di adrenalina se non ho uno shock anafilatico. Allora, che cosa accade? Quante sono le possibilità che un ragazzo tra 0 e 19 anni muoia di Covid? La sa lei questo numero? Lei? Sì. 0,006%. Sa qual è la percentuale della possibilità di morire colpiti da un fulmine? La stessa. Giù. Vabbè, c'è un contagio però. No, no. La stessa. Non è un paragone negativo. No, scusi. La stessa. Va bene, ok. Il contagio. La pioggia piove su tutti. È la stessa. È chiaro? È la stessa. Quindi, possibilità di morire Covid di un ragazzo fino a 20 anni oscilla tra lo 0 e i numeri negativi. Non deve pensare migliaia, centinaia di migliaia di altre persone però è elevata, no? Non deve pensare solo al fatto che può morire oppure no. Scusi, lei mi sta dicendo che... Può contagiare.